Ciao lacustri, bentornati e benvenuti in uno dei video più importanti della storia del mio canale e soprattutto del mio percorso qui sui social, e sto parlando del tour del mio mondo Minecraft da più di 3000 giorni. Dovete sapere che esattamente un anno fa durante una diretta su TikTok dove avevo tre spettatori, una persona che purtroppo preferisce rimanere anonima mi ha consigliato di scaricare e portare Minecraft in live, e non sapeva che questa scelta mi avrebbe cambiato la vita, anzi mi avrebbe portato a conoscere voi che mi avete cambiato la vita. Infatti vi voglio ringraziare dal primo all'ultimo, dalla persona che passa a guardare un mio video e lascia like a quelli che si sono spostati su Twitch, che magari si sono abbonati o hanno supportato in qualche modo il mio percorso. Avete preso una persona che non aveva una minima direzione nella sua vita e gliel'avete svoltata. Vi voglio bene. Ma tornando a noi, un anno fa mi sono fatto una promessa, nello specifico mentre ero nel mio magazzino, mentre lo stavo costruendo, cose di legno con questo legno qua, e nel mezzo ci metto le ceste. Quindi per farci capire, per un esempio, mettiamo a caso che queste siano due ceste, tipo due ceste qua e un coso di legno qua. E questo continua per tutto l'Hallway, è una bella idea in testa, poi se riuscirò a farla o meno, quello è un altro discorso. Però... Mi sono appunto fatto la promessa di portare avanti questo mondo di Minecraft Survival per un anno di tempo, e vedere cosa succedeva, sia a livello di costruzioni che a livello di obiettivi. E non serve dirvi ragazzuoli che abbiamo spaccato, abbiamo devastato tutto quanto. Ho dedicato letteralmente giorno e notte per questo mondo, e dopo un anno e dopo ho tante promesse mantenute, ho deciso di chiuderlo in onore di una seconda stagione della mia Survival, che tra l'altro trovate già sul mio canale. Purtroppo l'anno scorso non avevo i soldi per potermi permettere un editor, ma quest'anno lo posso fare e lo farò stravolentieri. Tra l'altro, grazie a Marti, che è la mia editor, lei mi ha insegnato ad editare tanti anni fa, quando ancora non ero capace. Vi voglio anche ricordare che nella descrizione del video troverete il download del mio mondo, ovviamente gratuitamente, e se volete vedere ogni piccolo segreto vi consiglio di guardare il video dall'inizio alla fine. Non vi voglio rubare ulteriore tempo, per questo video vi chiedo il folle traguardo di 10.000 like, e vi voglio dire che finalmente sono riuscito ad avere tutti i pezzi per il PC nuovo, ho anche preso la nuova fotocamera, così finalmente nelle intro dei miei video non dovete più contare i pixel, e se tutto va bene mi trasferirò anche da solo a breve, ed è soltanto grazie a voi. Detto questo, buona visione! Piccola premessa, abbiamo creato questo mondo in 1.19 e in questo momento siamo arrivati alla 1.20, e se vedete modded, quindi moddato, è semplicemente perché ho installato la Optifine, ed è il motivo per cui l'erba nel mio mondo è completamente verde, più tardi lo vedrete. Ed è anche il motivo perché tra un vetro e l'altro non ci sono delle linee. Mettiamoci le iconiche cuffie, single player, chill mode, e let's go! Tra l'altro da me ha pure iniziato a piovere, quindi il tutto è ancora più nostalgico. È iniziato tutto quanto qui, esattamente un anno fa, e questa qui ragazzuole è la mia prima casetta e anche la mia prima costruzione che mi ha richiesto diversi giorni. Ora tutto ciò mi fa sorridere, ma all'epoca ero molto fiero di quello che ho costruito. È una casa molto semplice che ho fatto utilizzando principalmente legno, qui sotto abbiamo delle bellissime pecore arancioni e verdi, che ho fatto un po' per tenere i colori che ci sono qui, e c'è anche questo bellissimo asino. Nello scorso video vi ho detto che era intrappolato da sei mesi, ora vi dico che è intrappolato da un anno. Vi faccio già vedere il pavimento che ho customizzato recentemente, cambiando ogni singolo blocco. Prima ovviamente era soltanto grassa, quindi terra. Salendo su e passando dal verde, entriamo nella prima stanza della mia casa, la stanza principale dove ho passato la maggior parte del mio tempo a dormire, perché sì, ancora ad oggi, nonostante i 3000 giorni, dormo dentro alla mia casetta. Qui abbiamo il mio primo piccone in assoluto di legno e qui abbiamo una zappa di diamante. La storiella di questa zappa di diamante è che semplicemente all'inizio del gioco avevo due diamanti, dovevo fare una spada ma purtroppo ho sbagliato. Qui abbiamo un po' una station temporanea dove mettevo qualche oggetto e qui abbiamo tutti quanti i miei sette cani, che fortunatamente riposano da ormai otto mesi, non li porto più in giro perché, non lo so, sono invecchiati poverini. Abbiamo Red, Lula, Lupo, Vivi, Leo, Alfa e con il collarino giallo Stella. Quasi mi dispiace dirgli addio, però ogni tanto vi prometto che tornerò a salutarli. Salendo di piano troviamo la mia tesoreria, la stanza dei tesori dove ho messo degli smeraldi, dell'oro, dei diamanti, la mia armatura di nederite secondaria e anche delle teste di mostri. Il pavimento ovviamente l'ho fatto in tema con quelli che sono i minerali. Questa è la stanza della natura dove abbiamo Jeb 1.0. Jeb 1.0 perché poi ce ne sarà un altro, per chi non lo sapesse se chiamate una pecora Jeb trattino basso questa pecora diventerà arcobaleno e se la tusate no, purtroppo non vi dà la lana in quel momento ma vi dà la lana bianca. Questa idea della stanza naturale me l'ha data Cliffe. Ciao Cliffe, purtroppo non vieni più a vedere i miei video e le mie live ma ti ricorderò per sempre. Salendo sopra ve lo faccio vedere al volo abbiamo un solarium dove si sta a prendere il sole e ci vado molto spesso perché c'è una bellissima vista su tutto quanto il mio villaggio. Ma vi ho spoilerato anche troppo, torniamo dentro. Yo! Ti fermo un attimo perché magari non hai ancora lasciato like al video e soprattutto ricordati di bere due litri d'acqua al giorno. Scendendo di qui invece abbiamo l'ultima stanza della mia casa che è una sorta di discoteca. Non chiedetemi nulla riguardo a questo palo perché c'è una storia che vi racconto se passate in live, ma qui abbiamo Sabri ed RP che sono i miei due bellissime allei che ballano se li metto la musichetta. Per esempio se io ora dovessi dargli il disco Other Side loro si metteranno a ballare. Oh yeah? Let's go! Una volta usciti dalla mia casetta ci siamo appena stati. Nella intro del video c'è il bellissimo ponte che passa sopra il fiume. Dovete sapere ragazzuali che io sono un amante dell'Oak. Questo legno qui, il legno base. E l'ho usato per tantissime costruzioni soprattutto all'inizio. Mi è venuta la brillante idea di fare un ponte che collegasse questa parte della mia isoletta che c'era all'inizio del gioco con quest'altra parte dell'isoletta. E ovviamente per rendere il tutto più realistico ho scorticato il legno e ho messo anche delle cose che illuminano completamente sott'acqua. Già che ci sono vi mostro sott'acqua e se vedete queste strane strutture con questo coso si chiamano Conduit e mi permettono di respirare all'infinito per tutta questa zona qua. Io ho messo delle Seal Hunter ovviamente per illuminare ed evitare che spawnino i Drowned che sono gli affogati. Praticamente gli zombie quando affogano diventano degli zombie subacquei. Non posso mostrarvi questa zona subacquea senza mostrarvi la casa delle tartarughe. All'inizio del gioco per qualche strano motivo il mio animale preferito su Minecraft erano diventate le tartarughe. Poi sono diventati i Glow Squid che vi farò vedere più tardi. Per le tartarughe ho costruito una casa e ve lo giuro qui dentro in un periodo del mio mondo ce ne erano 200 soltanto che dopo un po' mi laggava così tanto che ho dovuto farle sparire. WWF si fa soltanto per il content e mi raccomando si scherza non sono sparite sono tornate nella loro casetta. E con queste tartarughe sono riuscito a farmi il cappellino di tartaruga, due schiut e anche qualche alga. Nulla di entusiasmante però mi piaceva così tanto che addirittura gli ho costruito un tunnel. Infatti questo qui è il tunnel delle tartarughe che unisce questa zona all'altra zona qui dove c'è un passaggio segreto che più tardi vi farò vedere collegato alla mia villa. Tra l'altro qui sott'acqua ve lo voglio far vedere subito abbiamo Idro Golem che ha dei problemi? Perché ti muovi così? Ah già perché sei sott'acqua. È un golem che respira sott'acqua, anzi in realtà tutti i golem respirano sott'acqua e protegge i nostri villager. Infatti qui sopra abbiamo la mia bellissima farm di villager. Molto travagliata la storia di questa farm perché un sacco di volte ci sono caduti sopra i fulmini che han trasformato i villager in streghe e un paio di volte mi sono scappati tutti mentre cercavo di tirarne fuori uno solo per delle farm. Ovviamente non potevo che fare la forma della faccia dei villager. Oltre questa non posso che ricordarvi la mia miniera. Qui abbiamo un blocco d'oro e se lo seguiamo verso il basso possiamo scendere da queste scale. Se vedete questi buchi ogni tanto semplicemente vado a prendere la pietra, l'andesite o altri blocchi che mi servono per le costruzioni. Ma se noi scendiamo giù di qui... troviamo qui la mia farm di zombie che purtroppo non uso più e in realtà l'ho costruita anche abbastanza male perché alle volte si bloccano gli zombie qui. Ma mi è stata molto utile quando mi servivano. Il resto della mia caverna illuminata qui avanti dove tengo tutti quanti i miei glue squid e ne ho portati anche due su nella mia villa. Più tardi vi farò vedere anche quelli. E sto parlando di questa insenatura qui. Ok forse è giunta l'ora di mettersi le litre. Devo stare molto attento. Ok sono fortissimo. Mentre invece se andiamo giù di qui in fondo potete iniziare a vedere qualche chest. Abbiamo la mia gigantesca miniera dove ho preso la maggior parte dei diamanti e per una parte dell'anno ragazzoni sono anche stato la persona con più diamanti all'interno del suo mondo survival. Diventando effettivamente così il re dei diamanti. E quest'anno lo rifaremo. Sono stato anche il re della nederite e più tardi vi farò vedere. E purtroppo la nederite è diventato il nuovo minerale più pregiato, più raro. E già che ci sono vi faccio vedere la mia nuova armatura di nederite. Infatti con l'aggiornamento 1.20 possiamo customizzarla e metterci un po' i minerali che vogliamo per decorarla. Ma vi farò un video separato per questa cosa. Ah e se vi state chiedendo perché ho una skin di una ragazza, questa è la ragazza. È Camilla di Pokémon, non so se avete mai visto Pokémon ma lei è la campionessa della Lega. Un personaggio fighissimo e secondo me anche sottovalutato. Questo tunnel qui invece è molto particolare perché ho costruito una farm di diamanti. Trovate anche il video sul mio profilo se vi interessa. C'è una macchina volante che sfrutta pistoni, slime e redstone per distruggere automaticamente interi tunnel e raccogliere i diamanti. Mi è stata molto utile per reperire qualche diamantino qua e là. Poi purtroppo l'ho fatto esplodere, come è successo anche con la farm di sabbia. Qui dentro ho semplicemente degli scarti di cose che ho preso a mano. Ora è arrivato il momento di tornare su. Tra l'altro non mi sono mai reso conto di quanto effettivamente corresse veloce il personaggio se spammi il tasto salta. Appena uscito dalla miniera abbiamo una semplicissima fontana e vedrete spesso durante il mio mondo che a me non piace lasciare spazi vuoti. Quindi piuttosto ci faccio una piccola statua, una fontana o comunque cerco di decorare il paesaggio come vedete. Qui abbiamo una bellissima farm di neve molto semplice ci basta prendere una pala e usarla in questo modo. Prendiamo la neve e con la neve possiamo fare dei blocchettini e delle costruzioni. E a proposito di costruzioni con la neve qui abbiamo un gigantesco pupazzo di neve. E mi sorprende che non si sia sciolto visto che tecnicamente sono nel bioma della savana. Perché sì il mio mondo è principalmente sviluppato tra il bioma della savana e il bioma della pianura. In questa zona invernale abbiamo anche un bellissimo regalo di natale gigante, un albero di natale, un bastoncino di zucchero, delle renne che trainano una slitta, un piccolo pupazzo di neve e anche un igloo. E tutto questo ovviamente è stato fatto per il periodo natalizio che fortunatamente sta tornando. E a proposito di periodo natalizio qui abbiamo anche una bellissima pista di pattinaggio, anzi non è così bella però non lo so quel qualcosa di nostalgico, una delle mie prime costruzioni. E sopra questa pista di pattinaggio ho la costruzione di cui vado meno fiero in assoluto in questo mondo, che è la costruzione del castello di fuoco e del ghiaccio. Non ne vado minimamente fiero principalmente per il fatto che mi ero fatto delle aspettative molto alte, ma non sono riuscito minimamente a metterle in atto. Non sembra neanche un castello, sembra tipo, boh, una torre storta, non lo so. Non c'è molto da farvi vedere, qui abbiamo un po' di vetro, un po' di blocchi tendenti all'azzurro blu e qui con il rosso. Poi qui abbiamo l'immancabile magazzino, che avete probabilmente visto nella intro del titolo. È stata una delle mie prime costruzioni serie e mi sono impegnato molto per farlo soprattutto perché ero estremamente disorganizzato con le ceste e ho detto no, dobbiamo ordinare tutto. Molto semplice il design, volevo fare un po' un qualcosa che ricordasse una grotta, ho usato del legno, delle casse, e qui ho decorato mettendo delle pietre fatte con dei bottoni, delle pressure plate, e ci conservo pure alcuni dei miei oggetti più rari, tipo queste teste. Da qui entriamo nel Nether e vi ci porto subito, anche perché non c'è molto da farvi vedere, almeno ve lo faccio vedere subito. Dovete sapere che la dimensione che odio di più in assoluto è proprio il Nether, e addirittura ogni volta che ci entro sono sempre sul tetto del Nether. Uscirà poi l'episodio 2 o 3 della Survival che abbiamo già fatto in live in cui vi spiego come funziona. E qui dentro abbiamo due delle mie casse principali che vi faccio vedere subito dentro all'Ender Chest, dove abbiamo le mie mele d'oro, alcuni dei miei utensili che ho con gli incantesimi migliori del gioco, e addirittura quattro mele inchantate e ragazzuoli. L'ultimo libro. Dovete sapere che io all'interno del mio mondo ho conservato tutte le persone che si sono abbonate sulla piattaforma Viola, su TikTok, e anche molte persone prese qua e là che mi hanno supportato in generale durante il mio percorso. E questo qui è stato l'ultimo libro dell'ultima live all'interno del mondo, con Freaview che tra l'altro è la persona che ha fatto le grafiche di questo canale YouTube, grazie King. Bene bene bene, detto questo prendiamo questi due ed entriamo nel portale del Nether. Nel Nether troviamo subitissimo la mia farm di oro, molto semplice, qui abbiamo il sistema di raccolta, per farla funzionare ci basterà andare dove c'è questo vetro qui, stiamo un pochettino fermi sopra, e sotto di noi inizieranno spawnare i pigmen che vengono attirati da delle uova di tartaruga, che ci sono state molto utili, cadono e mi danno le loro pepite d'oro e la carne marcia. Nel mio mondo hardcore ne ho fatta una gigantesca e fatemi sapere se volete vedere un tour del mondo hardcore, che ormai è quasi arrivato al giorno 1000 tra l'altro eh? Stiamo iniziando a far concorrenza qua. Qui invece abbiamo una farm di rigurgito di rana, un oggetto alquanto particolare che serve ad illuminare, infatti se noi usiamo la Optifine possiamo vedere che i magma cube quando saltano illuminano. Questo perché dentro di loro ci sono delle specie di torce, e per prendere queste torce che sono all'interno di dei blocchi bisogna utilizzare le rane. Qui i magma cube vengono attirati dal golem nel mezzo, arrivano al piano più basso, e nel piano più basso ci sono delle rane, qui, che si mangiano i nostri bellissimi magma cube, e mi arrivano poi i blocchi qua. E sono molto belli, li ho usati un sacco su Hogwarts, ma poi lo vedrete. Devo smetterla di dirvi ma poi lo vedrete. Perfetto, mi sono già perso, ottimo, so già che per questo video berrò almeno tipo 6 litri d'acqua da quanto parlerò. Qui abbiamo l'arrivo della mia farm di creeper, praticamente nell'overworld io ho fatto una farm che mi porta i creeper qui in modo che ne spawnino molti di più, cadono e io trovo qui la gunpowder che uso per i miei razzi ovviamente, anzi fatemela prendere perché qua sono messo un po' male con i razzetti. Non so se riconoscete questa statua, ma se la riconoscete siete delle leggende. Qui dentro abbiamo la mia farm di piglin, praticamente io salgo su di qui da queste scale, metto l'oro qui dentro, l'oro viene portato giù in basso e viene scambiato con i piglin che ci danno un sacco di oggetti bellissimi. Addirittura l'ossidiana, rendendola effettivamente così la prima farm automatica di ossidiana. E di frecce, stringhe, acqua, ferro, enderpearl, soul speed addirittura. Per non parlare delle pozioni di resistenza al fuoco che mi sono state un sacco utili per tutta la nederite che ho preso. Vi vorrei far vedere il sistema di cave che ho qui dentro, ma più o meno se lo dovessi girare tutto ci metterei 7-8 ore e non sto scherzando ragazzi. Potrete comunque farlo voi se scaricate il mondo. Andiamo a dormire. Tra l'altro mi ero scelto la posizione strategica del letto in modo che si vedesse più o meno il tramonto dietro, oltre che i miei cani ovviamente, ma ho un po' coperto il tramonto con queste cose qua che ci stavano bene. Vi parlavo di nederite perché io ragazzuoli ho fatto la scritta un milione utilizzando i blocchi di nederite. Questo qui è il traguardo che ho raggiunto su TikTok ormai due o tre mesi fa e per festeggiare ho voluto fare la scritta un milione con i blocchi di nederite circondati dai blocchi di diamante. Un progetto folle ci sono stato dietro forse 100 ore se non addirittura di più. Alcune delle 100 ore più belle della mia vita perché eravamo in live a chiacchierare mentre facevo scoppiare TNT nel neder. Che goduria. Qui abbiamo un mulino con un campo di grano gigantesco di fianco. Questo mulino l'ho fatto perché avevo bisogno di grano per la mia farm di mucche, però sinceramente non l'ho mai troppo usato perché ho scoperto la farm di Oglin e mi sono rovinato e poi in realtà mangio sempre le carote d'oro. Qui dentro c'è una zappa in caso dovessi finire per qualche strano motivo lì dentro e per il resto è abbastanza self explanatory. E per il resto si descrive abbastanza da solo. Vi ho parlato di farm di mucche e ve la faccio vedere. Questa qui è stata la mia prima farm di cibo nel mondo e mi è stata un sacco utile anche per prendere la pelle soprattutto. Molto semplice il funzionamento. Tu sali, attivi questo pulsantino qui, escono le mucche, tu li dai da mangiare queste mucche, chiudi il sistema di funzionamento, aspetti che le mucche che finiscono qui crescono e poi fai così, le mucche muoiono e ti danno tutto qui. Ho anche una farm completamente automatica di polli e come potete vedere non l'ho più utilizzata, anche se mi ha prodotto un sacco di roba. Qui invece ho una bellissima farm di canne da zucchero che è a doppio lato e mi è servita per avere tutte le mie canne da zucchero che uso per fare i razzi. E vi dico, è veramente molto efficace come farm. Qui invece abbiamo la casa della nostalgia. Della nostalgia perché tutti quanti noi da piccoli abbiamo costruito un mondo in creativa dove mettevamo dei diamanti, dell'oro sul tetto ovviamente, pedane d'oro, smeraldi. E visto che siamo nel 2023 ho voluto anche aggiungerci un blocchettino, un lingottino di nederite. Vicino alla casa della nostalgia abbiamo il golem rubino protettore. L'ho chiamato rubino ma purtroppo su Minecraft non ci sono i rubini quindi ho dovuto utilizzare l'ametista ed è un golem che dove va lascia indietro delle scie di ametista e protegge il nostro villaggio. Guardate che bello. Tra l'altro con questo golem e con questo villaggio ci ho creato una storiellina che sarà collegata alla nuova survival quindi mi raccomando non perdetevela. Vicino a questo golem abbiamo purtroppo il cimitero di Kiwi, il pappagallino che abbiamo perso durante una spedizione mentre tornavamo a casa, la Custrina che è stata la mia prima tartaruga che ha reso possibile la casa delle tartarughe, Pablito il Rospo che ho perso mentre volavo, attaccato tipo ad una lid, questo oggetto qui per farci capire, Foxy la Volpe che viveva sulle isole volanti e non so che fine abbia fatto ma secondo me è volata giù, e Dragoro, uno dei miei tantissimi gatti che si chiamano tutti quanti Dragoro, che è una delle prime persone che mi ha seguito in assoluto. E a proposito di prime persone che mi hanno seguito qui abbiamo il Tempio dei Sostenitori, un tempio greco che ho costruito puramente con lo scopo di ricordare per sempre in questo mondo le prime persone che mi hanno sostenuto. Qui abbiamo i principali donatori quando ho chiuso questa cosa, tra virgolette, che poi ho portato avanti in un altro tempio che vi farò vedere più avanti, mentre qui sotto dove abbiamo un villager trading hall ho messo tutti quanti i vostri nomi. La prima persona che ho scritto in assoluto sul libro è Angbass05, chissà dov'è? Di queste persone l'unica persona che è rimasta Shiko Colone, Leo Liga che vedrete anche più tardi nel mondo ed è diventato un mio modellatore delle live, grande Leo, e pochi altri. Assurdo quante persone sono passate in questo mondo anche soltanto temporaneamente. E per ogni leggio c'è un libro da 25 pagine, alcuni sono un pochettino più corti tipo Questi da 10 ma avete capito il concetto. Il villager trading hall è semplicemente un sistema dove io prendevo i miei principali incantesimi a prezzi stracciati. Per dire questo villager mi da, non lo so, knockback 2 per uno smeraldo. Per farlo semplicemente basta dargli una mela d'oro e una pozione della debolezza dopo che uno zombie l'ha trasformato in un villager zombie e puoi ripetere questo processo all'infinito. Sbrigatevi perché ho sentito che Minecraft potrebbe toglierlo purtroppo. Di fianco al Tempio dei Sostenitori abbiamo la sfida dell'88 di Stepney, ovvero la sfida di fare un 88 utilizzando 88 blocchi di diamante. È stata una sfida assurda e soprattutto sono rimasto con i brividi sul fatto che Stepney mi abbia notato, visto che era un mio idolo quando ero piccolino. E farci video assieme oggi come oggi per me è un sogno ed è tutto grazie a voi ragazzuali. Di fianco alla scritta di Stepney abbiamo la torcia. La torcia che ci ha salvato perché durante la live in cui ho preso 88 diamanti sono caduto nella lava, appunto con 84 blocchi di diamante se non sbaglio. Comunque con 500 diamanti e sono stato salvato da una torcia perché la torcia, per chi non lo sapesse, spegne la lava. E l'ho costruita in un minuto di tempo, è stata una sfida carina che ho fatto in live. Qui abbiamo un golem che vi pone un fiore e questo fiore e questo golem ci ricordano che dietro abbiamo la farm di golem. Per farla funzionare al meglio dovrei stare lì sopra dove c'era una piattaforma ma poi ci ho costruito la casa di app e dalla sopra semplicemente spawnano i golem qui in dei villaggi simulati perché qui dentro ci sono dei villaggi artificiali tra virgolette e qui raccogliamo tutto il ferro che ci danno. Come vi ho detto prima ogni tanto ho messo delle statuette qua e là, qui abbiamo una statua di un elefante, qui la statua di un pulcino ovviamente per Pasquetta o per Pasqua, adesso non mi ricordo. La mia bellissima farm di pecorelle che mi è servita per prendere tutta la lana e di tutti i colori, molto semplicemente qui sotto c'è un minecart che viaggia, ora è spento perché se non sbaglio la farm è piena, prende tutta quanta la lana, poi si ferma qui, la lascia cadere, io vado in una chest e la prendo. La lana principale l'ho usata per le costruzioni, ormai sono rimasti i colori un pochettino spenti. E sempre in tema Pasqua abbiamo fatto anche un con il letto là, che se non sbaglio ha dentro dell'oro nascosto? Esattamente, la casetta coniglio. Poi se vedete questa pera qua sulle mura è per ricordare Pera, uno dei miei più grandi donatori della storia del canale Twitch, e ce ne sono stati tanti altri dopo e Pera addirittura si è giudicato una statua vicino a Bikini Bottom, che più tardi vi mostrerò. Qui abbiamo la fontana degli Axolot, dove ho provato ad ottenere l'Axolot blu ma è letteralmente rarissimo, forse una possibilità su 4.000 non ci ho più provato. Qui abbiamo la casa di Adventure Time, che ho costruito dopo che la mia prima casa di Adventure Time ha preso fuoco, il 6 marzo del 2023, nemmeno troppo tempo fa, e in questa casa non c'è molto, ho messo qualche cassa qua e là, qua ci sono i collegamenti con il giardino, nel giardino ho fatto un piccolo falò qui dietro, e la casa ho cercato di farla abbastanza fedele al cartone. Questa è una stanzetta, qui possiamo scendere per uscire sul primo balcone, e da questo balcone possiamo arrivare un po' dove vogliamo, ma io direi di salire ancora. L'iconica stanza, il primo ramo del balcone, tra l'altro possiamo ammirare questo bellissimo tramonto, dove abbiamo un'altra stanzetta, qui abbiamo la vasca, sarebbe il loro bagno, da questa finestrella possiamo vedere la loro stanza e salendo troviamo la barchetta che sta in cima, e possiamo anche già ammirare la gigantesca torre dei Teen Titans, e preparatevi ragazzuoli. Tra l'altro ho visto nei commenti che mi avete consigliato di fare la torre degli Avengers nel nuovo mondo, fatemi sapere se volete vedere anche qualche altra costruzione molto frisky. Sempre a riguardo di Adventure Time, che tra l'altro è il mio cartone preferito ovviamente, ho costruito questa bellissima pixel art di Finn e della principessa gomma rosa. Purtroppo non hanno una bella storia d'amore loro due, ma io ci ho sempre creduto, quindi ho voluto rappresentare loro due. E poi abbiamo la gigantesca testa di Finn che sta urlando. Sta urlando perché dentro abbiamo fatto una fornace automatica, che è molto comoda. Praticamente io metto un oggetto qui, il carburante qui, qui mi esce l'oggetto che è stato cotto, e qui posso andare a riprendermi il carburante nel caso avessi usato della lava, che è molto comoda per bruciare e soprattutto mi ride indietro i secchielli. Ed essendo la lava farmabile all'infinito e anche abbastanza semplicemente ho deciso di usare quello. Mi sono dimenticato di mostrarvi la farm di carote e di patate. Una farm importantissima perché mi forniva il cibo all'inizio del mondo, soprattutto le patate cotte, mamma mia. Qui c'è un villager e là c'è un altro villager che praticamente litigano per una ragazza e mezzo e cercano di conquistarla lanciandogli più carote e patate possibili, ma lì entro in mezzo io e li rubo letteralmente tutto quanto. Vicino alla farm di carote e di patate abbiamo la stanza degli enchanting. Cosa che non uso più ma mi ha sempre affascinato, soprattutto questa animazione in cui assorbe delle lettere strane. E ovviamente ad inizio gioco fondamentale, ho voluto fare un qualcosa di caruccio carino. Qui invece abbiamo il muro degli abbonati, dovete sapere ragazzuoli che in quel periodo hanno messo gli abbonamenti su TikTok e hanno anche sbloccato la possibilità di fare live da computer su TikTok. E questi sono i miei primi abbonati e alcuni di loro ci sono ancora, per esempio Mancus, Aria, Tommy, Giorgia addirittura. E tutti questi abbonati qui sono protetti dallo scheletro di diamante, da Skelly, che è uno scheletro di diamante artificiale perché gli ho dato io l'armatura e lui semplicemente la poteva raccogliere e l'ho intrappolato qui dentro. Purtroppo c'era anche uno zombie con la testa di zucca ma sono stato un sacco stupido e una volta ho attivato la pacifica e l'ho perso, come ho perso anche un Wither Skeleton con la testa di zucca, che era rarissimo perché si può ottenere soltanto ad Halloween. Qui abbiamo la casa della hardcore che ora vi faccio vedere, ma prima vi voglio far vedere la farm di meloni e di zucche. Ne produce davvero davvero tanti. Le ho utilizzate principalmente per l'illuminazione perché dovete sapere che qui sotto ci sono delle zucche e sopra queste zucche io ci metto dei tappeti. Ho voluto creare un design molto bello del pavimento. Mi annoiava vedere soltanto terra. Bene, possiamo tornare alla casa della hardcore. Dovete sapere che a un certo punto ma io a caso ho voluto creare un hardcore. E ciao coniglietto, non so da quanto tempo è che si è intrappolato qui dentro ma ti vedo molto agitato, tranquillo. In questa hardcore purtroppo sono morto in realtà quasi subito ma avevo costruito questa casetta e sono morto per colpa di un creeper e ho scritto cheat perché in quel momento mi stavo stiracchiando e ho detto ah almeno oggi non siamo morti e sono saltato in aria per colpa di un creeper e Leo Liga mi ha dato l'idea di ricostruire questa casa nel mondo survival e ho rimesso anche l'armatura che avevo. Volevo essere fedele al cento per cento. Ritorniamo dentro al villaggio anche perché ho tante cose da mostrarvi. Qui abbiamo la mia farm di cactus, ho voluto fare un lato dove si vedesse tutto quello che succede dentro e qui andiamo a raccogliere i drop è sempre 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 piena, infatti ci sono i cactus lì in mezzo. Qui abbiamo il pescivendolo che si chiama letteralmente pescivendolo e volevo semplicemente mettere un punto di riferimento per tutti i pesci che ho pescato. E qui abbiamo delle bancarelle nella zona portuale dove abbiamo la balena tandem psichica da guerra, ispirato ovviamente ad Adventure Time. E qui abbiamo un sacco di barilozzi e anche una gru che fa scendere i barili. Questo è il ponte che ci porta alla fine e qui in realtà volevo mettere se non sbaglio dentro a ciascun barile un tipo di pesce, però realisticamente mi sa che non ho mai trovato il tempo per fare tutto ciò. Nella balena tandem psichica da guerra però nel frattempo mentre piove, a parte questa bellissima mappa che ci fa vedere il nostro villaggio dall'alto e anche il tempio di Babilonia, ho voluto collezionare degli oggettini particolari. Per esempio dentro questo barile ci sono degli stack di lilac, qui dentro abbiamo degli stack di mattoni e volevo farlo perché volevo simulare una nave che ovviamente porta le provviste in giro, per i più bisognosi in realtà. Un'opera di bene insomma. Qui abbiamo una cella frigorifera e qui abbiamo delle bacche che ho conservato e farmato gelosamente. Qui una stanza da letto, tra l'altro non posso nemmeno dormire perché sotto abbiamo un prigioniero. Infatti dentro questa nave, oltre alla tesoreria dove abbiamo un po' di diamanti, smeraldi, oro, lapislazzuli, è ovviamente casse, è una zona pranzo-cena, lo zombie 18k. Ciao. Non mi attacchi? Mi vuoi bene? Ah ecco infatti. Se n'è andato. Mi vuole bene. È il prigioniero di questa nave. Ciao 18k. Usciamo dalla nave. Ci tengo anche a precisarvi che il 98% delle cose che vedete attorno a me è stato fatto in live o in video e li trovate o sul mio profilo tiktok o sul mio profilo Twitch e addirittura qualcosina pure su YouTube. Sempre nel mio villaggio abbiamo la eroica statua di Technoblade, che è stato per me un idolo e un grandissimo personaggio nella scena di Minecraft. Ovviamente americana, però era importante per me. E ho voluto ricordarlo con una statua e sotto a questa statua c'è la sua frase più famosa. Un giorno guarderemo indietro da dove abbiamo iniziato e saremo sorpresi di dove siamo arrivati. E non può che essere più attuale che mai. Qui abbiamo un sacco di cavalli scheletri e li vedrete spesso perché in una delle ultime live ben due fulmini hanno colpito il mio villaggio ed entrambi i fulmini avevano un cavallo scheletro. La prima volta per trovarne uno ci ho messo sette mesi, adesso completamente a caso ne ho tipo otto o nove. Nel mio villaggio ho fatto anche un ingresso, diciamo medievale, in cui c'è questo castello con una porticina segreta dove abbiamo Irene, che è il mio golem protettore, che posso picchiare perché l'ho spawnato io. Ciao Irene. Ed è il golem che protegge la prigione dei pillager. Hanno dei nomi assurdi, ve lo giuro, non so perché gli ho messo questi nomi. Tipo questo si chiama Ercicoria, questo si chiama Franchino Ercriminale. Ok, ci siamo capiti. E ho messo anche qualche testolina di scheletro, un po' di sangue finto. Insomma la sapete la prassi. Qui abbiamo la stanza del re, quindi la mia stanza praticamente. Ovviamente sto scherzando ma sono l'unica persona dentro questo mondo. E si mangia con un pranzo nobiliare che può essere della carne circondati da oro, armature e spade. Salendo da queste scale si può ammirare il mio villaggio e anche l'altra parte del mio villaggio dove si vede la stazione di Londra e smarrito. Più tardi vi racconterò la storia. Invece in questa stanza qui abbiamo una libreria nobiliare e un piccolo passaggio segreto che ci porta all'altra tesoreria. La prima era quella che avete visto nella mia casa. E se vedete pochi diamanti è che mi servivano per una costruzione. Qui c'era anche un tappeto. Che fine ha fatto il tappeto? Vabbè. E da questa tesoreria per scappare c'è un passaggio segreto. E alla fine di questo passaggio segreto, che ovviamente ho volutamente lasciato il più grezzo possibile, si esce vicino al cimitero. Un po' stile catacombe vicino al tempio. Non so come ci è arrivato, ma qui abbiamo Dinnerbone. Praticamente se voi chiamate un animale, un villager o un'entità con Dinnerbone, questa entità va al contrario. E onestamente bro, è molto strano quello che sto vedendo, sinceramente. È molto strano quello che sto vedendo e questo cavallo l'ho voluto chiamare in realtà d'annunzio, ma non vi spiegherò il motivo di questa scelta. Se vuole ve lo fa vedere lui. Qui abbiamo due statuine, di Among Us. Queste statuine le ho costruite perché è in live. Quest'estate ho portato principalmente Among Us, alla sera. Non c'è molto, sono entrambe uguali. C'è semplicemente un letto, una sorta di libreria e ovviamente un'incudine, una fornace con di fianco una crafting table. Qui invece abbiamo la statua di Smarrito, ovvero il mio cavallo. Una statua per me molto importante perché era l'unico cavallo sopravvissuto assieme a tutti gli altri che purtroppo sono passati a miglior vita. E qui, nella criniera di Smarrito, abbiamo ricordo sia di Smarrito che di Detrito. Detrito è il cavallo che se non sbaglio mi è morto nella hardcore, però potrei confondere i due. Comunque erano due cavalli molto importanti per me. Detrito è morto nella neve, mentre invece Smarrito è morto risucchiato dalla corrente d'acqua e questo è tutto quello che ne resta. Riposate in pace, leggende. Sopra la zona medievale abbiamo l'oggetto più raro del gioco, ovvero l'occhio di drago. È il più raro perché ce ne può essere soltanto uno, ma ovviamente io l'ho duplicato e ne abbiamo ben due, e questo raggio viola lo testimonia. Più tardi lo vedrete e vi spiegherò anche il perché di questo Burj Khalifa gigante. Qui abbiamo un gatto banana, che è un gatto che ho costruito per un mio abbonato, anzi per il mio abbonato, uno dei principali donatori, grazie Notch. Qui dentro abbiamo costruito una struttura a teschio circondata da lava, che ospita tutti i nostri cavalli scheletro, Fulmine, Junior Skelly, Mortina. E qui abbiamo una pecora rosa, che ricorda la seconda hardcore che abbiamo fatto, perché abbiamo trovato ben due pecore rosa, e nella terza hardcore, che è stata la più longeva ed è stata una delle hardcore che mi ha fatto conoscere di più, quella in cui abbiamo battuto il Warden, insomma. Avevo un fiore portafortuna che mi aveva consigliato una mia fan di nome Saiyan, e ho voluto ricordarla per sempre in questo mondo. Qui abbiamo il municipio di livello 12 che ho costruito per Grax, molto caruccio, e dentro questo municipio di livello 12 abbiamo dell'oro, dell'Elisir, e ovviamente non poteva mancare all'ultimo piano superiore la Tesla gigante. Davanti al municipio di livello 12 abbiamo la barca dei pirati, che stava venendo verso il nostro villaggio, ma il nostro amato Kraken ci sta difendendo. In questa nave possiamo trovare una sala riunioni, il timone per guidare la barca, una stanza bellissima dove vengono portate le provviste, addirittura un pesciolino, e dei cannoni che servivano a spararci ma purtroppo non ci sono riusciti, oltre che dei letti per i marinai. Poi abbiamo delle risorse e ovviamente l'immancabile stanza del corsaro, con i teschi, dell'oro, dei diamanti, insomma la sapete la storia. Qui di fianco abbiamo il tempio di Babilonia, e ve lo giuro che mi son dovuto prendere un letto perché mannaggia, continua a diventare buio, almeno me lo porto in giro. Questo tempio di Babilonia è veramente bellissimo perché abbiamo sia una parte sotto, in stile molto villaggio ricco arabo, tipo Dubai, mentre invece se andiamo verso l'alto abbiamo sia la vista su tutte le cose che ho costruito, tra cui una delle ultime è il Titanic, poi vi spiegherò il perché dei colori, e poi abbiamo il luogo del tributo, che ho voluto dedicare a voi. Infatti qui dentro lanciavo tutti quanti i libri degli abbonati che ora ho preso e portato nella libreria sacra, e questi libri degli abbonati in teoria dovevano circolare dentro a quest'acqua qua e andare in giro per tutta la struttura, ma non sono mai riuscito a farlo, quindi semplicemente venivano catturati da un sistema di raccolta. Per entrare in questo tempio basta andare dalla casa delle vacanze e buttarsi verso il basso, e per risalire qui c'è una porticina che ci spara verso l'alto. Qui abbiamo delle rovine di fianco al mio villaggio vicino alla casa estiva, e qui abbiamo la gru di prima che vi facevo vedere. Ora vi faccio vedere il faro, e poi iniziamo a spostarci sulle cose un pochettino più interessanti. Allora, per quanto riguarda il faro ci sono un miliardo di scale che bisogna purtroppo percorrere, e in cima a questo miliardo di scale possiamo trovare un cannocchiale, se non sbaglio, all'interno di un baule, qui dentro. Ah, ce l'avevo già nell'inventario, perfetto. E con questo cannocchiale possiamo guardare il nostro villaggio. Ovviamente prima che scoprissi della Optifa in questa cosa era molto utile, addirittura ora posso fare così. Guardate il de-zoom, vi faccio un esempio più concreto con la faccia del creeper. Letteralmente quasi non ci sta la faccia e ora... that's crazy. E niente, è un bellissimo punto panoramico. L'uscita del mio villaggio ci collega alla casa delle vacanze. Questa casa delle vacanze l'ho voluta costruire per ricordarci dell'estate. Non ho giocato molto a Minecraft in estate, ma mi sono molto divertito. Qui abbiamo una cucina, qui abbiamo un divano con un camino, ovviamente il camino ora come ora non ci serve, anche se sta fortunatamente tornando il freddo. La camera da letto, il magazzino, da qui si può uscire, si può andare sul balcone. Che volevo fare inizialmente sul mare, ma poi ho detto, mmm, il mio villaggio è più bello. Quindi l'ho fatto sul mio villaggio e anche che dà sul mare. Qui sotto abbiamo il giardinetto che è collegato poi al Tempio di Babilonia, come vi ho fatto vedere prima. Basta buttarsi giù. Non vi ho fatto vedere nel mio villaggio la mia villa, ragazzuoli. Ma prima di farvi vedere la villa vi voglio far vedere il play button dei 100.000 iscritti, perché sì, siamo arrivati a 100.000 iscritti e anche a 200.000 stiamo andando verso i 250. Follia pura. E dietro al play button dei 100.000 iscritti c'è la scritta LOL. Doveva essere l'Hollywood, ma non l'ho mai finita e per me è diventato così un meme che ho deciso di lasciare LOL, in onore dei vecchi tempi. E qui dentro abbiamo la mia villa, dove c'è una bellissima piscina idromassaggio, abbiamo una piccola cucina e salendo abbiamo dei diamanti, Fight Club in televisione che possiamo guardare dal divano, ma non ditelo troppo in giro. Prima regola del Fight Club. E qui abbiamo due Glow Squid. Voi non avete idea cosa significa portare due Glow Squid in una casa, ragazzi. Provateci. Fatemi sapere. Qui abbiamo un passaggio segreto e nel passaggio segreto abbiamo Sabrina egocentrica. Una mia moderatrice, non vi preoccupate, lo è ancora a distanza di un anno. Chiudiamo la porta, scendiamo, apriamo un'altra porta e qui ci troviamo il nostro allevamento segreto paradisiaco di pecore arancioni. Non chiedetemi il perché, però ci stavano bene. E qui dentro ci ho passato davvero tantissimo tempo perché mi piace un sacco come zona. Tanto che ho voluto fare un passaggio segreto nel passaggio segreto che ci porta a questa zona molto rustica dove coltivo le mie carote, il mio grano, le mie barbabietole da zucchero in quella che è una società dove si utilizzano tutti i pesticidi, cose strane. No, queste sono bio del mio orto. Non so, mi faceva molto film, era bella l'idea. Tra l'altro in questo passaggio segreto c'è un altro passaggio segreto. Infatti se noi andiamo qui dove c'è questa fontanella e scendiamo verso il basso chiudendoci alle spalle la botola, arriviamo qui sotto e qui sotto se vado qui, mi giro, risalgo da qua, passo qui dietro e dentro dentro l'acqua, c'è un passaggio segreto che mi riporta al mio villaggio. Ultima cosuccia del mio villaggio che non vi ho fatto vedere, il cappello della strega che ho fatto in onore della Befana e lì sopra abbiamo una strega. Intrappolata e sotto abbiamo anche un sacco di ragni intrappolati ragazzuoli, guardate qua. Purtroppo mi danno poche soddisfazioni perché rimangono bloccati sempre nell'angolo, ma va bene così. Qui abbiamo della lava e decorazioni da strega insomma. Grazie Greta dell'idea, mi piace ricordarvi nelle mie costruzioni. Per quanto riguarda il sopra del villaggio invece, abbiamo un cubo di rubik, molto semplice come costruzione, l'ho fatto per far costruire la mia migliore amica quando veniva nelle mie live tanto tempo fa, se non sbaglio gennaio-febbraio. E qui dentro abbiamo un parkour. Qui invece abbiamo il logo di Twitch che ho voluto fare per i 100.000 iscritti. Siamo arrivati adesso a 420.000, io mi chiedo come sia possibile. Per non parlare del traguardo di abbonati che abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto i 10.000 abbonati ragazzi. E mi hanno mandato sia il play button dei 100.000 iscritti di YouTube che quello dei 10.000 di Twitch. E tra l'altro tra poco mi arriverà anche quello di TikTok, sono uno dei primi in Italia ad averci di tutti e tre. Vi voglio bene. Mua! Dal logo di Twitch ci lanciamo e andiamo verso le isole volanti. La prima isola volante ospita un villaggio dei villager dove abbiamo Jeb 2.0 che vi nominavo prima. Abbiamo due porticine che ci fanno entrare nella loro casa. E qui saliamo le altre isole utilizzando le cascatelle. Qui viveva Foxy. Purtroppo secondo me è saltato giù. La volpe che vi facevo vedere prima nel cimitero ecco. Qui abbiamo altra acqua che ci porta su e qui abbiamo la mucca amante ma non vi racconterò la storia di questa mucca perché qualcuno di voi lo sa. Tra l'altro qui ho fatto uno dei miei primi esperimenti dove ho scoperto che se tu ti butti da questa altezza con l'armatura sopravvivi. Non ci credete? Nel frattempo mi raccomando ragazzuoli iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Sono sopravvissuto. Let's go. Non rifatelo a casa. Vogliamo ancora verso l'alto e arriviamo alla casa di Up. Guardate che bella. Mamma mia. Uno dei miei primi video su YouTube in cui vi facevo vedere come costruirla, negli shorts, se vi interessa. Ovviamente non ho fatto soltanto gli esterni ma ho voluto fare anche gli interni dove abbiamo i quadri, l'iconico divano e soprattutto l'iconica mansarda. In questa mansarda abbiamo i ricordi. E ho voluto anche fare delle decorazioni molto particolari dentro le casse ed è una cosa che vedrete spesso nelle mie costruzioni. Parentesi villaggio quasi finita. Qui abbiamo un dragone lunghissimo che è un drago di Terraria customizzato con i colori nero e verde ed è il drago che protegge il nostro uovo del drago. E poi ci sarebbe il nuovo villaggio, il villaggio medievale, ma questo lo lascio per ultimo perché è collegato all'altro mondo ed è stata l'ultima costruzione che ho fatto. Arriviamo alla torre dei miei 21 anni, come vedete ben poco illuminata, che abbiamo costruito il live appunto in onore dei miei 21 anni. E di fianco alla torta dei 21 anni abbiamo il Burj Khalifa o come piace chiamarlo me lo Sburj Khalifa per le sue forme particolari, ecco. Purtroppo non ho fatto gli interni quindi non c'è molto da farvi vedere perché li dovevo fare assieme a Surry. Infatti il Burj Khalifa l'ho costruito grazie a lui che mi ha sfidato e io l'ho costruito in un giorno. Un giorno significa 24 ore, purtroppo. Però ed è bello, è un bel modo per farmare mostri, perché letteralmente qui dentro spawnano soltanto mostri. Qui abbiamo i miei beacon arcobaleno che fanno un arcobaleno gigante di fianco al mio villaggio. E qui, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il passaggio segreto, esatto, che ci fa arrivare qua sotto, così vedete come funziona. Bisogna mettere le lastre di vetro in un determinato modo e semplicemente esce fuori. E di fianco abbiamo costruito la stalla di Blur, dove dentro abbiamo messo alcuni degli stalloni che abbiamo in comune, come per esempio Little Taylor. Ciao Taylor, è un grande. Svolazziamo di qui e ragazzi vi faccio vedere la pokeball gigante. Dovete sapere che su TikTok andava di moda sfidarmi, a fare costruzioni impossibili, difficilissime, gigantescherrime. E io, ovviamente, l'ho presa sul personale e ho costruito la sfera pokemon più grande che si potesse costruire. Doveva essere una semplice sfera, ma io ho usato plots, sphere, generator per generarmi le dimensioni e ci ho fatto una pokeball. Non avete idea di quanto tempo sono stato nella farm di sabbia per fare tutto questo. Ah, tra l'altro la farm di sabbia non ve la farò vedere perché è esplosa, come vi ho detto prima, ma se volete c'è un video sul mio canale YouTube. E ovviamente non poteva mancare dentro alla pokeball il mio bellissimo Blastoise, che è il mio starter preferito. Cioè, Squirtle è il mio starter preferito, ma l'evoluzione è Blastoise. E ho anche costruito la regione di Canto con tanti problemi, ma più tardi ve ne parlerò. Qui, ve l'ho mostrata prima, ho la mia farm di creeper, una farm che produce letteralmente soltanto creeper. Non è difficile da fare, c'è anche un tutorial sul mio canale. Semplicemente si sfruttano dei gatti che si chiamano Dragoro per spostare i creeper che scappano e spawnano soltanto loro grazie ai tappeti e alle trapdoors. Qui abbiamo la farm di api che volevo decorare facendo un'ape gigante e ci ho provato ed è uscita malissimo la cosa, però funziona molto bene. Ho utilizzato il miele principalmente per fare le candele di yogurt. Qui abbiamo il Burger King, che ci ha sfidato a costruire il Burger King all'interno del mio mondo hardcore. Ormai io gli ho detto guardate, se muoio perdo il mondo, quindi vi conviene che lo faccia nel mondo survival e lo ho fatto nel mondo survival. Caruccio ho fatto il Mac Drive e se entriamo da queste porte qua arriviamo alla stanzetta interna dove si mangia, ai bagni, e qui si vanno a prendere gli ordini. Volevo fare una farm di mucche qui dentro ed è il motivo per cui ho lasciato lo spazio che ci portava automaticamente le mucche qua, dove io le potevo letteralmente comprare. Se mettevo dentro qualcosa c'era un sistema che mi faceva uscire la carne, però poi ho detto, è troppo complicato, non ci sta. Gigi, purtroppo ragazzi ve lo dico sinceramente nell'ultimo periodo avevo un po' perso la motivazione ma mi è tornata. E lo vedrete con le costruzioni nella survival stagione 2. Il campo di Kobe Bryant, molto nostalgico, grande Kobe, qui abbiamo degli oggetti un po' a casa e un libro? Oddio. Ma lasciando stare quelle casse è molto confusionare, qui abbiamo la cassa dove ci sono i palloni da basket ed effettivamente è un campo da basket interattivo. E tu fai canestro? Già lo sai. Da qui direi di svolazzare verso la torre dei Teen Titans, una delle colossali tre, come mi piace chiamarle a me, ovvero una delle più grandi costruzioni che ho fatto all'interno del mio mondo assieme a Bikini Bottom e Hogwarts e Kanto. Ma ci torneremo su Kanto. La struttura si presenta così dall'esterno, qui abbiamo un portone automatico che ci fa entrare e dentro abbiamo una hallway dove abbiamo la T dei Teen Titans, un mega candelabro gigante, e qui abbiamo il famoso ascensore che ci porta su di piano. Al primo piano abbiamo la palestra se non sbaglio, dove abbiamo la sala pesi, ovviamente i coni con cui poter fare slalom e un ring dove combattere. Se torniamo sull'ascensore invece possiamo andare al secondo piano e se non sbaglio al secondo piano ci dovrebbe essere l'infermeria, esatto, abbiamo l'infermeria dove possiamo curare i nostri eroi. Al terzo piano o al renzo piano ci dovrebbe essere il museo con la testa del drago, la testa del creeper, tutte le armature, questa qui mamma mia, e dell'acqua. Non so perché ma mi sembrava molto cursed quest'acqua, perché guardatela, così cristallina. E poi si arriva all'ultimo piano che è il più bello di tutti, dove abbiamo la sala riunioni, la sala centrale, un grandissimo candelabro e mi piace un sacco come è uscita la decorazione. E guardate sotto, spettacolo di vista, sia sul deserto che sul mare che su Bikini Bottom che sul Titanic. Tra l'altro purtroppo qui dentro passavano le nuvole, infatti ho dovuto disattivarle, perché ve lo consiglio anche a voi se scaricate il mio mondo, raga. Ah, e sotto la torre dei Teen Titans ve lo mostro giusto al volo, ho fatto una struttura che utilizzavo per farmare il quarzo, e una settimana fa ragazzuoli ho fatto una notte a non dormire per sistemare questo mondo, spero lo possiate apprezzare. Ho pulito ora tutte quante le ceste che c'erano in giro, ho sistemato alcune mie costruzioni e ho finito di aggiungere tutte quante le persone al libro. Tra l'altro prenderò uno a caso di voi che sotto questo video commenta con Acqua Sant'Anna, da mettere nel libro ovviamente. Finita la torre dei Teen Titans, passiamo al Titanic del Napoli. Titanic del Napoli perché qui io avevo un mob spawner del Napoli e in questo mob spawner diciamo c'era un'interferenza, e questa interferenza era il Titanic che stavo costruendo. Di conseguenza ho dovuto tirar giù la farm di mostri e per i miei amici napoletani ho detto ok, però vi do la soddisfazione, facciamo il Titanic del Napoli. E così ho fatto, ho messo tutti i colori caratteristici, finestre e addirittura ho messo anche i banner del Napoli e ovviamente l'immancabile sirena del Napoli. A volte mi chiedo come ho fatto a farmi convincere di fare questa cosa, ma non importa. Qui davanti però abbiamo lo scoglio del Milan, perché ovviamente la leggenda del Titanic, anzi la storia del Titanic la conoscete, e ho dovuto fare lo scoglio del Milan su richiesta. E per gli interni non ho costruito molto, ho semplicemente fatto un campo da calcio con i colori del Napoli. Eccoci qua. Sarebbe bello poterci giocare. Magari in un futuro aggiornamento lo metteranno, ovvero Minecraft. Tra l'altro dovrebbe pure uscire, se non sbaglio, una nuova dimensione nel nuovo aggiornamento e non vedo l'ora. Non vedo davvero l'ora, ragazzi. Svolazziamo e qui di fianco abbiamo l'iconica Bikini Bottom, che con questo tramonto dietro è ancora più bella. Qui abbiamo l'isoletta principale e come nel cartone si cade giù verso il basso, sapete quella transizione con le bolle. Qui abbiamo la casa di Squiddy, che vi faccio vedere subito perché non c'è molto, ci sono delle decorazioni ovviamente in stile molto lussurioso. Quadri ovunque, il suo clarinetto, librerie perché lui è un sacco acculturato, e se riesco a salire c'è anche la sua stanza da letto. Molte di queste cose ve le avevo già fatte vedere nell'altro tour del mondo, però onestamente ci tengo a farvele rivedere. Qui abbiamo la casa di SpongeBob, ovviamente l'iconico Ananas, qui abbiamo il pesce, la televisione, il salvagente dove guardava la televisione, il tavolino e mi sono ingegnato ad utilizzare le alghe per fare il soffitto. Da qua si scende nella biblioteca di Gary, o comunque almeno c'era sempre Gary, non c'è molto, Gary l'ho portata verso l'alto, adesso ve la mostro, preparatevi perché è imbarazzante. La sua stanza da letto dove abbiamo il megafono che lo sveglia, il suo letto dove si può addirittura dormire, infatti dormiamo. Se saliamo su di qua troviamo appunto Gary e ve l'ho detto è imbarazzante ragazzi, non sapevo come farlo. Abbiamo il cibo di Gary e qui è dove SpongeBob prende il sole. Poi abbiamo la casa di Patrick con un piccolo passaggio segreto qui davanti perché non riuscivo a fare la roccia che si apriva e si chiudeva e la sua casa è letteralmente soltanto fatta di sabbia, c'è una televisione, un divano, un letto e il frigo. Il Krusty Krab e qui abbiamo i tavoli del nostro bellissimo Krusty Krab, abbiamo la cucina con tutta la carne che ho raccolto per la sfida degli abbonati se non sbaglio, anzi no era il pane che avevo fatto per la sfida degli abbonati e per il Krusty Krab è tutto ma davanti abbiamo il suo acerrimo nemico Chan Bucket dove abbiamo il menù di cose che nessuno si prende, infatti ci sono le ragnatele, i tavoli e qui dentro abbiamo la cucina e ovviamente ho decorato a modo ciascuna delle ceste come vi facevo vedere prima quando vi facevo vedere la casa di Up. Qui si prendono gli ordini ma questa stanza come ho detto è praticamente inutile. Questo è un passaggio che volevo fare per la stanza sotterranea perché per chi non lo sapesse c'è praticamente una grotta gigante e in questa grotta gigante ci sono altri tavoli come questi ma non ho mai trovato il tempo anche perché tutto questo l'ho costruito in due settimane e mezzo, tre settimane esagerando. Non so come ho fatto, sono folle. Qui abbiamo l'autoscuola di Mr. Puff, qui abbiamo il faro, tutti i bellissimi coni e tutto qua intorno si fa il giro, si entra dalla porta principale e qui si prendono appunti, cosa che SpongeBob non ha mai fatto visto che l'hanno bocciato 17 volte. Ovviamente non poteva mancare l'olandese volante che passa per i cieli di Bikini Bottom. Nell'olandese volante abbiamo una stanzettina carina qui davanti, qui si scende, qui sotto è particolarmente vuoto, non ho messo molto se non questa pietra molto misteriosa e la gatta buia. Il possessore della ricetta segreta dei Krabby Patty, Mr. Krab e la sua bellissima casetta. Ovviamente lui è un accumulatore seriale, infatti abbiamo fatto un sacco di quadri, dell'oro e volevo fare anche i piani superiori ma li avrei letteralmente fatti con lo stesso design quindi li ho un po' omessi. Poi ci sarà sicuramente sua figlia che è in casa a lamentarsi in questo momento. Casa di Sally! Si entra, ci si igienizza perché qui dentro c'è una pozione splash di water breathing, qui abbiamo un alberozzo, qui dove arrivano gli uccellini, la sua ruota, il tavolo da picnic, un sacco di fiorellini sparsi e dentro la casetta abbiamo tutte le fornaci, un altro letto e un po' la sua stanzina. Qui abbiamo le case di quelli che mi piace chiamare NPC e sono delle case molto standard dove ho messo dei letti e delle cose per il magazzino per farci vivere i villager ma non li ho mai portati qui perché volevo usare una texture pack che mi facesse vedere tutti quanti villager come abitanti di Bikini Bottom ma poi ovviamente l'avrei tolta quindi alla fine ho lasciato il dentro così. Le abbiamo re medusa, ovviamente, abbiamo anche degli slime che spawnano, che carini, con le sue medusine attorno, qualche cosa strana che esce dal terreno qua e là, la palestra di Larry sulla spiaggia e questa se non sbaglio addirittura è proprio Bikini Bottom, la spiaggia e ovviamente tutti i ghirigori in cielo. Volevo farli anche sulle mura però le ho provate e non stavano bene ragazzi. Qui abbiamo la casa dei genitori di Spongebob invece, che ormai sono diventati vecchi e l'interno appunto è fatto così come le altre case e per chi si ricorda qui avevo tutto il magazzino che mi ha servito per costruire tutto questo e l'ho svantellato, non avete idea di quanto tempo ci ho messo. Prima di farvi vedere le ultime cose vi voglio far vedere la statua di Pera e di Spring che erano i miei top 2 donator e per questo mese ragazzi sono tornati, sono tornati a sfidarsi uno con l'altro e gli avevo dedicato due statue proprio perché tra di loro lottavano come top donator e farò una cosa simile nel nuovo mondo, ci sono già dei numignoli da mettere, sarà molto divertente. Qui abbiamo la mia gigantesca piramide magazzino automatico, che ho recentemente modificato per sistemarla al meglio durante una delle ultime live in questo mondo se non addirittura l'ultima live. Questa piramide l'ho costruita dopo una sfida che mi è stata lanciata da un ragazzo, dove praticamente si faceva un ping pong di chi avesse la piramide più grande. Ho vinto io per un periodo poi lui si è unito a delle persone con un team nel suo server e mi hanno battuto. Ma io l'ho costruita da solo, let's go! E recentemente ho aggiunto tutta questa parte qui, volevo costruire delle statuine con una fontana diciamo l'esterno di questa piramide e l'ho fatto. E ho finalmente aggiunto i due pozzetti che servono per il magazzino automatico. Tra l'altro questa piramide ho deciso di chiamarla la piramide dei conigli. E c'è una storia su questi coniglietti che sono qui da 7-8 mesi se non addirittura di più. E la racconto sempre perché è importante, praticamente ragazzuali questi coniglietti rappresentano un po' alcuni di noi, me compreso. Molto spesso ci piace stare nella nostra zona di comfort, quindi continuiamo a saltare nello stesso posto in cui siamo, perché magari abbiamo paura, proprio come questi conigli, ma saltando sempre nello stesso posto non arriveremo da nessuna parte. Quindi è importante avere meno paura, affrontare le proprie responsabilità e saltare via dalla situazione in cui siamo alle volte, dalla nostra comfort zone. Come funziona questa piramide? Molto 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 semplice. Qui abbiamo un magazzino automatico che ho costruito con tanta pazienza e amore, dove praticamente c'è un sistema che va a filtrare gli oggetti, se volete c'è il video sul mio canale, e questi oggetti poi vanno a finire in queste casse. Per farli finire in queste casse a me basta andare su di qui, buttare qualcosa dentro a questo filtro, per esempio della terra, il filtro prende la mia terra e poi la andrà a portare qua. Non l'ho finito perché non sono una persona super organizzata, quindi non mi sono messo a mettere tutti gli oggetti, ma volendolo potevo finire. Qui sotto abbiamo un pavimento in lava e una volta ho rischiato di morirci, ho fatto uno dei miei epic save più grandi, e ho voluto dividere la piramide in zona inferno e zona paradiso. Nella zona paradiso, adesso vi mostro ci sono un sacco di animaletti carini, nella zona inferno c'è il più totale inferno, blocchi che volano, lava che cade. Là volevo fare il purgatorio ma poi non l'ho più fatto. E questa qui ragazzi è la zona paradiso. Abbiamo delle colonne, delle bellissime piante che scendono dal soffitto, nuvolette, pecore, campane, oro, tutte le cose belle insomma. Perfetto, possiamo svolazzare fuori e già che siamo qui vi porto a vedere land. Dovete sapere che per arrivare nel land ci sono due modi. Il primo modo è esploso ed era la farm di sabbia. Il secondo modo è venire qui. Mi ricordo a memoria le coordinate e se vi interessa è a meno 1220, meno 1280. L'altezza non è importante, più o meno siamo sui 50 blocchi. C'è un buchettino e questo buchettino ci porta qui sotto. Qui sotto non so quanti creeper sono esplosi ma veramente tanti. Si passa di qua dove c'è una cesta con dentro spazzature e gliene lasciamo anche altra sinceramente. Si va di qui verso sinistra e qui c'è la stanzettina che ci porta nel land. Questo era l'arrivo della mia farm di sabbia. Praticamente veniva duplicata e sparata in questi quattro angoli dove io la raccoglievo qui sotto e oltre alla farm di sabbia ho anche la farm di enderman, ragazzuoli. Molto caruccia, ma quello che ho fatto nella mia nuova hardcore è mua. Molto semplice il funzionamento, cadono giù gli enderman che rimangono con uno di vita, io li colpisco a mano con la spada per ucciderne contemporaneamente di più, mi prendo le esperienze e se mi interessa mi prendo le enderperle. Questo rumore che sentite, ah ok potrei farci freestyle, inizia a fare freddo mi metto il pile, serve per buttare via tutte le enderperle. C'è anche del ferro? Cos'è quella roba lì? Vabbè non importa, svolazziamo via. Non c'è molto altro, semplicemente qualche portalino che serve per andare a prendere l'elytra. Non ho nemmeno battuto il drago tutte le volte che servono per finire il gioco, tecnicamente dovrebbe essere 7-8. E non ho nemmeno completato tutti gli achievement, ma vi prometto che nel nuovo mondo lo faremo. Bene, si è rotto il mio letto principale, quindi sono spawnato sopra la casa di app. Ottimo. Svolazziamo giù, let's go! Siamo arrivati ora ad uno dei progetti che mi chiedete da più tempo, che non vi ho mai mostrato. E sto parlando del progetto di ricostruire l'interacanto all'interno del mio mondo survival. Mi ero dato la scadenza di un mese di tempo ma non mi ero reso conto di quello in cui mi ero cacciato. E purtroppo ragazzi su questo vi ho un po' deluso, perché alla scadenza del tempo non sono riuscito a costruire l'interacanto e poi in un secondo momento il mio mondo è stato corrotto perché mi è saltata la corrente qui a casa, ci ho fatto anche su un video, e quindi ho dovuto dire addio a tutti quanti i miei progressi. Quindi quello che vedrete in questo momento ragazzi è tutto quello che sono riuscito a costruire di canto. Partiamo da Bianca Villa, dove abbiamo il laboratorio del Professor Oak, dove si scelgono gli starter. Ho messo anche tutti quanti i cartelli che spiegano che cosa c'è. Qui abbiamo la casa di rosso e possiamo osservare la stanza da letto della casa di blu, che è la mia preferita. Qui ovviamente ho fatto crescere tutti gli alberozzi del caso. Andando avanti ci troviamo nel boschetto per arrivare poi al percorso 1 se non sbaglio, dove ho cercato di riprodurre fedelmente un pochettino la strada, sapete con quei cosi che si può passare soltanto da un lato. Non so se avete mai giocato a Pokémon ma è molto bello, ve lo consiglio. E preparatevi perché arriva anche la Pixelmon ragazzuoli, se non sbaglio dovrebbe iniziare lunedì assieme a molti content creator di Pokémon e Minecraft. E poi mi sono fermato qui, per andare a Viridian City. Ho costruito quello che è il passaggio, ho continuato un po' ma purtroppo gran parte delle cose è andata corrotto, poi mi è passata un po' la voglia, ho perso la motivazione, poi ho smesso un po' di giocare a Minecraft. Ma comunque qualcosina abbiamo fatto e ne sono contento. Qui invece abbiamo costruito la grotta dei Diglett e questa è uscita molto bene. Abbiamo il fango, la terra, dell'acqua, qualche stalattite, qualche stalagmite. È uscita davvero bene e mi piace molto. Mentre invece se torniamo indietro da questa parte, ovviamente cittando perché qui bisognerebbe usare surf, troviamo il beacon che mi serviva per pulire tutta questa zona qua e poi troviamo l'isola Cannella, l'antica città devastata. E qui troviamo ovviamente il Pokémon Center con scritto la palestra Cannella si è trasferita alle isole Spumarine. Bello Spumarine. Questo era un po' il mio design del Pokémon Center. L'avevo visto su Pinterest se non sbaglio. Salendo su di qui abbiamo il vulcano e una volta per il meme ci sono anche morto dentro. Alquanto bizzarro. E se vedete queste mura verdi, ragazzuoli, le ho fatte perché volevo che fossero il perimetro di quello che era un po' il gioco. E qui abbiamo una torre di terra che non so bene perché ho fatto, ma sicuramente avevo in mente qualcosa, tipo un monte, non lo so. Vorrei tanto aver avuto il tempo per costruire tutto quanto. Qui invece abbiamo una Pokéball gigante e in questa Pokéball gigante abbiamo fatto dentro un Charmander se non mi sbaglio, esattamente. Molto caruccio con la sua statuina. E voliamo ad Hogwarts. Eccola qui che si avvicina in lontananza, ovviamente. Sta piovendo di nuovo, ma rende il tutto ancora più magico. Partiamo da dove dobbiamo partire, ovvero dalle zattere che ci portano alla risacca delle barche. Ci prendiamo la nostra barchetta e andiamo verso la risacca. O riserva, adesso non mi ricordo il nome. C'era già un'altra barchetta, ok. In questo luogo abbiamo un portale del Nether che ci dà le indicazioni di dove andare il campo da Quidditch, il bosco o foresta oscura per i più esperti, Hogwarts e le barche. Dovete sapere che quel portale è collegato alla stazione di Londra che vedete qui. E in questa stazione di Londra c'è una bellissima macchina volante, non so chi se la ricorda, che hanno rubato Ron ed Harry per venire proprio qua. A parte tutto l'esterno di questa stazione, entriamo. Non ho messo molto perché non fanno vedere molto nel film, ma ho comunque voluto decorarla a mio modo. E qui abbiamo tutti i binari, non bisognerebbe correre sui binari, ma il mondo è mio. E se arriviamo al binario 9, alla piattaforma 9, possiamo passare dal passaggio segreto che ci porta al treno. E questo treno ovviamente poi ci porta ad Hogwarts. Ho costruito un po' un meccanismo dove noi prendiamo un minecart, mettiamo il minecart qui, ci saliamo, andiamo in avanti, arriviamo qua, entriamo nel Nether, spingiamo il minecart in avanti, ci rientriamo e questo minecart ci porterà ad Hogwarts. Tra l'altro guardate che bello il paesaggio, si vede il Nether. Ho voluto sempre un po' ibridare Minecraft con Hogwarts. Comunque in generale nelle mie costruzioni realistiche ho voluto metterci dentro Minecraft e adesso su Hogwarts ve lo mostro nella zona della biologia, ecco. Quando si arriva qua di solito si trova un altro minecart, si scende, si spacca il minecart che dovrebbe tornare nell'altra dimensione, si risale e da qui si fa la lunga camminata che ci serve per arrivare al castello vero e proprio. Ottimo, ora saltiamo su di qui, entriamo dentro al castello gigantesco che ci si pone davanti e vi faccio sentire subito una piccola perla. Ebbene sì ragazzuoli, qui sotto ho fatto un meccanismo di redstone che fa l'intera canzone di Harry Potter appena entriamo nel castello. Ne vado molto fiero, ci ho dedicato davvero tanto tempo a questo castello. E qui abbiamo la sala principale dove c'è la scelta del cappello, della casata, e fatemi sapere di che casata fate parte. Qui sopra abbiamo il cielo stellato magico, qui tutti i nostri tavolini, le candele svolazzanti, il camino, e se andiamo verso su qui troviamo la stanza con i quadri parlanti. Salendo le scale arriviamo alla prima stanza che ci porta nei sotterranei. E non so se riconoscete questa scena ma quest'acqua cristallina rende il tutto ancora più magico, ci ho messo sotto dell'ossidiana per dare colore, e se andiamo qui avanti possiamo sbirciare fuori, oppure semplicemente risalire dalla torre dell'orologio. Nella torre dell'orologio si sale da queste scalettine qua, e anche qui purtroppo è poco illuminato, spero di non trovare ospiti indesiderati. Qui di solito c'è sempre dentro qualcuno, non sapevo cosa mettere perché nel film non fanno vedere, forse c'è l'infermeria qua. Ma qui fortunatamente mi sono svegliato, ho illuminato e possiamo vedere il sopra del pendolo, e se andiamo ancora su, vediamo tutto il meccanismo e abbiamo anche una bella vista sul ponte e su questa zona qui, adesso mi sfugge il nome. Tiriamo dritto, e qui abbiamo i dormitori, e mi sa che ci dormo anche io. Ok, svolazziamo via da questo punto panoramico, guardate che bello. E torniamo su di qui, infatti se noi continuiamo a salire in questa direzione, possiamo trovare qui un passaggio segreto, e non giudicate che questo qui dovrebbe essere il patrono del serpente. Molto caruccia questa stanza, molto segreta, ci piace, ci piace. Mentre invece da questa parte possiamo trovare i dormitori, se non sbaglio, esattamente, di tasso rosso nello specifico, non vorrei sbagliarmi. Qui ci dovrebbe essere lo studio di silente, esattamente. Qua ho voluto mettere un beacon per fare quell'effetto bello, e da lì ci guarda con sua imponenza. Mentre qua sotto abbiamo le sfide. Qui c'era la sfida del cerbero, qui abbiamo la sfida della pazienza della pianta, infatti bisogna essere molto pazienti e aspettare che la ragnatela ci faccia scendere. Qui abbiamo la stanza delle chiavi, e se non sbaglio la stanza giusta dovrebbe essere questa qua, e qui abbiamo la sfida degli scacchi o della dama. Uscendo da questa parte di Hogwarts andiamo verso di qua, e mentre vado di qua non posso non farvi vedere, ragazzuoli, da dove è nata questa idea malata di fare Hogwarts, qui non c'era assolutamente nulla, c'era soltanto quest'isoletta dei funghi. E quest'isoletta dei funghi mi è servita per sviluppare completamente a mano tutto, mura, montagne, eccetera eccetera, Hogwarts. Idea pazza che mi è venuta per... non lo so. Ringrazio il me stesso del passato che mi ha lasciato dei razzetti. In questa parte del castello abbiamo un ingresso con delle stanzine un po' vuote perché nel film non fanno vedere che cosa c'è. Qui si dirà ma abbiamo rifatto completamente il pavimento, ci sono tre stanzette qua e là, anche queste vuote, in alcune ci sono delle aule scolastiche. Qui abbiamo il punto di ritrovo centrale e qua sopra, fondamentale, abbiamo la scena dove cade Silente, così. Noi siamo sopravvissuti perché siamo su Minecraft ma lui è morto. Qui invece abbiamo anche qui dei corridoi giganteschi fatti di granito. Wow, creeper. E se saliamo su da queste scale... sta salendo anche il creeper per caso. Ok, no, meno male. Troviamo... vediamo se ve la ricordate questa stanza. E se continuiamo a salire, arriviamo alla biblioteca. Biblioteca con dentro degli zombie e meno male che ci sono le gabbie. Appena fuori da questa parte ve lo faccio vedere perché merita, ho costruito due farm che mi sono servite per mettere i tappeti per l'illuminazione. Mamma mia, illuminare questo posto, ragazzi. Qui abbiamo la guferia dove possiamo entrare e dentro abbiamo delle gabbie di gufo usate... fatte usando le fornaci. E se saliamo su abbiamo uova, cacca di gufo e piume. Rientrando nel castello, andando verso di qui, troviamo i bagni dei ragazzi, delle ragazze e soprattutto un bagno fondamentale perché ha dentro un passaggio segreto, ragazzuoli. Bisogna andare di qui. Vicino alle aule scolastiche c'è il bagno di Mirtilla, Malcontenta, o Camilla, Malcontenta che tiene il libro degli abbonati di quel giorno, quando abbiamo finito Hogwarts. Si apre il passaggio segreto da qui, si richiude idealmente mentre si scende, si arriva giù qua, qui c'è l'ascensore per risalire ma ci torniamo dopo e andando dritti di qui si arriva dal basilico, dal basilisco. Mi è uscita molto bene questa costruzione, anche l'ambience mi piace molto. Il ponte che connette Hogwarts alla casa di Hagrid, che purtroppo è morto sia nella vita reale, riposa in pace my man, sia nel mio mondo Minecraft. Infatti andando in questa direzione qua di solito trovavo un villager ma un giorno è scomparso, probabilmente per tutti gli zombie che spawnano nella foresta oscura. Questa qui comunque era la casa di Hagrid, molto accogliente, cupa, misteriosa, e questo era il suo lavoro. Addirittura c'era pure il suo cane, ma è sparito pure lui. Qui abbiamo fatto una statua che non è l'unica che vedrete, infatti ce n'è un'altra qui molto simile, e qui sotto abbiamo la casa dei Rossi, dei Weasley, la loro macchinina, qualche alberello un po' per decorare e dentro la casa non ho fatto niente, in realtà è vuota. Mentre invece se andiamo nella foresta oscura ragazzuoli, a parte tutti i parafulmini che ho dovuto utilizzare per proteggermi dai fulmini, abbiamo qui sotto l'unicorno, non so se ve la ricordate la leggenda dell'unicorno ma sta arrivando un creeper, quindi ve la spiego tra un secondo. E la leggenda dell'unicorno è questa. Seguitemi su Twitch mi raccomando. No scherzo, era quella scena con Voldemort bellissima. Andando qui avanti abbiamo il campo da Quidditch, riprodotto anche troppo fedelmente visto che è pieno di mostri, e si conclude così Hogwarts. Ho qualcos'altro da farvi vedere di Hogwarts, un po' gli esterni, ho costruito ovviamente le mura abbastanza fedelmente. Qui come vi dicevo ho ibridato Minecraft con Hogwarts, perché ho costruito tutte le farm di ogni singola cosa possibile su Minecraft, mentre invece su Harry Potter si dovrebbero chiamare mandracole e mandragole. E basta, purtroppo gran parte di Hogwarts è vuota ma nel tempo in cui l'ho fatta io ci sta. Ve la faccio vedere al volo con le shaders, purtroppo mi fanno laggare un sacco il gioco, sennò avrei fatto un tour panoramico. Ma lo potete trovare nel primo tour del mondo. E mentre arriviamo alla fine del tour ragazzuoli vi voglio raccontare la lore di questo villaggio. Questo villaggio è stato l'ultimo progetto del mio mondo, ed è un villaggio che collega quello vecchio assieme a quello che sarà il nuovo villaggio nella stagione 2 che ho già iniziato appunto. Praticamente ho costruito queste due torri, che sono collegate tra di loro, e in queste due torri ci vivono dei villager, che non sono tanti, ma sono dei villager che arrivano dal futuro. Infatti questo villaggio era completamente disabitato. C'è una torre di vedetta, le due torri, il mulino, addirittura c'erano ancora le coltivazioni lasciate lì. Ma purtroppo la popolazione è stata decimata, e allora i villager del futuro sono arrivati con il treno astrale. E questo treno astrale che ha sfondato le mura del mio villaggio, e che quando passa lascia una scia astrale, ha portato dei nuovi abitanti al nostro villaggio che l'hanno ripopolato, e soprattutto sono riusciti a risvegliare il drago ottenendo il secondo uovo del drago, che era fondamentale del raggio che vedete qua sopra per sbloccare il viaggio tempo su Minecraft. Vi faccio vedere prima questa torre e poi l'altra. Dentro a questa torre abbiamo un sacco di provviste. Salendo troviamo poi delle stanze un po' magiche, dove provavano, diciamo, dei prototipi di macchina del tempo, e sono rimasti i residui. E lo stesso vale per questo piano qua. Quando hanno finalmente trovato la ricetta per la macchina del tempo, hanno piazzato il secondo uovo. L'uovo di drago che ho duplicato. In realtà ne ho tipo 27, però la storia perde di valore se dico che ho così tante uova. E qui si accede alla seconda torre, che in realtà è la più importante di tutte, perché abbiamo la libreria sacra, che è la libreria che conterrà per sempre tutti quanti i nomi dei miei abbonati, dei miei sostenitori. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere tutti quanti, ma secondo me è molto più bello se lo andate a vedere voi stessi. Vi ricordo che c'è il download in descrizione. In caso fatemi sapere che vi metto tutti quanti in un episodio della mia survival. Scendiamo di qui e arriviamo al portale del Nether, che è servito per la costruzione della macchina del tempo, perché ovviamente bisogna passare tra le dimensioni. Qui testavano la gravità e hanno utilizzato l'oro, e scendendo giù di qua abbiamo tutti i minerali che sono serviti, l'attrezzatura, e arriviamo finalmente alla macchina del tempo. Questa stanza molto futuristica ci porta qui, e qui abbiamo il portale. Il portale che ci dà accesso alla stagione 2 della nostra survival. È stato un anno veramente stupendo ragazzi se non addirittura il più bello della mia vita, mi avete dato delle soddisfazioni enormi, ma anche le cose più belle purtroppo finiscono. E da lollo il suo mondo di un anno ragazzuogli è tutto. Noi ci vediamo dall'altra parte. Lacustri, se siete arrivati fino alla fine di questo video siete delle persone stupende, vi ringrazio tantissimo della visione e fatemelo sapere nei commenti scrivendo faccio parte della laguna, che magari vi aggiungo al librettino. Ti auguro una splendida giornata e come al solito se vuoi vedere due miei video io te li lascio qui. Grazie davvero ancora di tutto, un bacione.